Ministro, sulla questione dell'ISIPO lei si è esposta in prima persona, attualmente come è la situazione? Stiamo andando avanti, c'è una sentenza da far rispettare, la sentenza verrà comunicata alle autorità americane, contemporaneamente noi stiamo, come dire, dialogando con le forme giuste con il Ghetti per far capire che la nostra non è un capriccio, non è nemmeno qualcosa di formale, è semplicemente rimettere a posto delle cose che sono state fatte in maniera sbagliata in passato, tutto qua. Lei ha citato un obiettivo e l'ha rimarcato anche poc'anzi durante il suo intervento. Noi lavoreremo per riportare l'ISIPO in Italia, ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma fin quando non arriva io continuo ad insistere e a procedere in questa iniziativa. Cioè, noi vogliamo essere alleati del Ghetti, non vogliamo assolutamente confrontarci al Ghetti, vogliamo dare al Ghetti la giusta riconoscimento in quanto istituzione culturale di primissimo livello, a livello mondiale e di grande reputazione. E quindi lo aiuteremo a mantenere questa reputazione la più alta e la più pulita possibile. Lei ha detto che ci vorrà tempo, quando parla di tempo cosa intende? Ci vorranno mesi, ci vorranno probabilmente anni, ma vede, queste cose partono, possono avere delle accelerazioni, possono avere dei rallentamenti. La cosa veramente che conta è non mollare. Questo è quello che ho visto magari in passato. Cioè, alcune cose diventavano importanti in un certo momento, perché erano magari di moda, poi passava del tempo, ci si dimenticava e quant'altro. Come le dicevo prima, come dicevo, l'ISIPO è importante, ci mancherebbe altro, ma l'ambizione che abbiamo è molto più alta. Cioè, noi dobbiamo spegnere in maniera, una volta per tutte, il mercato dell'arte illegale. E per farlo dobbiamo far sapere che questo è un tipo di compromesso a cui non scenderemo mai. E quindi insisteremo affinché tutto quello che viene preso in un certo modo venga restituito a chi ne è il legittimo proprietario. E vale anche al contrario. Quindi tutte le volte che sul suolo italiano troveremo qualcosa che non va bene, noi saremmo i primi a restituirlo a chi di dovere, anche se non ce l'ha ancora chiesto, ma non ha importanza. Ministro, facciamo l'ipotesi che l'ISIPO ce lo ridiano. Fano ha una speranza di riaverlo rispetto ad altre pretese? Prima dovete lavorare, dovete fare musei, dovete ce n'è, ce n'è. È un cantiere aperto. Senz'altro ci sarà modo e tempo di lavorare insieme su questo.